Salve amici appassionati di Football Manager, qui con voi come sempre c'è Mike 94, ovviamente Football Manager Italia Siamo qui con il nostro Football Manager 2019 con il nostro mitico Lecce e oggi andremo a vedere la partita con il Crotone e poi andremo a parlare di Calcio Mercaso Per quanto riguarda le partite giocate vi ho saltato solamente quella con il Carpi che abbiamo vinto in rimonta 3-1 doppietta di Palombi e gol di Arrigoni credo che vi salterò sicuramente anche la partita con l'Ascoli e forse anche quella con il Cittadella Faremo mercato ovviamente, però poi dopo questo episodio e forse anche il prossimo andremo velocemente a vedere il girone di ritorno sperando di riuscire ad arrivare in Serie A, speriamo bene Detto ciò andiamo subito a vedere la partita di oggi contro il Crotone, un avversario veramente molto molto tosto Andiamo a giocare con Vigorito, Lucioni, Bellucci, Venuti e Lepore Lepore è il capitano, ha chiesto di giocare e quindi lo metterò un po' più in campo anche perché non voglio farlo incazzare Arrigoni, Murgia, Scavone mancò su Falco e Palombi Falco sta praticamente giocando quasi tutte le partite da titolare C'è un solo piccolo problema che la promessa che gli abbiamo fatto scadrà fra circa due settimane e dopo questa partita per due settimane non ci sono più incontri quindi ora non so se gli basteranno solamente queste partite oppure si incazzerà e basta intanto fallo killer di Roden che costringe dal primo minuto la sua squadra a giocare in dieci e quindi niente, speriamo che Falco non si incazzi perché veramente non è colpa mia non ci sono più partite ufficiali quindi non so bene come gestire la cosa io ho letto ovviamente i vostri consigli, ovviamente tutti quanti preferite Mancosu, ci mancherebbe altro però giustamente mi avete detto tienitelo perché è un ottimo jolly, può servirti ed è un ottimo giocatore, l'unico suo problema è che è un po' cavatosta e le vuole giocare tutte un po' come giusto che sia arriva il gol di Mancosu dopo il tiro di Murgia, Kordaz ovviamente non riesce a bloccarla e la passa al nostro giocatore e quindi nulla vediamo, vediamo fra due settimane Falco come starà io più di farlo giocare praticamente tutte le partite non posso lo stesso ovviamente vale per Mancosu, l'epore ovviamente non le andrà a giocare tutte anche perché sennò poi Fiammozzi si incazza cercherò anche lui di gestirlo al meglio sono tutti giocatori che un po' vogliono essere protagonisti un po' meno l'epore devo dire la verità, l'epore non ha mai giocato quindi è anche giusto che si incazzi essendo il capitano però non è tanto adatto sia per questa serie B, sia per giocare come terzino destro noi l'abbiamo un po' adattato è più offensivo come giocatore poi ho letto anche in questo caso i vostri commenti anche voi siete d'accordo a lasciarlo partire a zero non lo vendiamo perché poi pare brutto però nemmeno gli rinnoviamo il contratto intanto qui Arrigoni ha fatto un intervento che vale quanto un gol veramente stato ad ora per Arrigoni però il Crotone attacca nonostante siano con un uomo in meno assolutamente non dobbiamo rischiare siamo 1-0 e quindi per favore c'è Palombi, c'è Palombi no che sfiga portiere battuto palo ci sono ancora venuti il cross viene purtroppo fermato veramente che sfiga un'altra cosa che voglio dirvi vi anticipo un po' già quello che andremo a vedere per quanto riguarda il calciomercato io come anche già voi mi avete consigliato non farò una vera e propria rivoluzione perché la squadra sta andando bene quindi non avrebbe senso ma soprattutto per un motivo importantissimo la dirigenza già da un bel po' ci ha dato praticamente ci darà solamente il 30% della gestione cioè di ciò che andremo a guadagnare e quindi ora come ora non ha senso vendere tanti giocatori perché praticamente andremo a prendere solamente due spicci quindi cerchiamo di fare bene quest'anno con i giocatori che abbiamo cerchiamo di solamente puntellare qualche ruolo insomma per la volata finale in serie A e poi a luglio o comunque a giugno con un po' più di fondi speriamo che la società inizi a darci un po' più di soldini e quindi o meglio una percentuale migliore e quindi da lì possiamo anche iniziare a vendere i giocatori per una cifra un po' più importante soprattutto guadagnarci noi di più ecco questa è la cosa principale perché se no dovremmo fare anche in serie A il mercato a zero siamo abituati a fare mercato con pochi spicci alla fine è quello che più mi diverte fare un mercato con pochissimi soldi però già abbiamo la limitazione di prendere solamente giocatori di serie A scusate giocatori italiani già abbiamo il Lecce che non è ovviamente la Juventus quindi almeno un po' di fondi ci servirebbero poi dobbiamo riscattare diversi giocatori Cortinovis Murgia anche se la vedo abbastanza difficile visto che ci andrebbe a costare tantissimo però si fa quel che si può allora a proposito di Murgia io lo leverei perché sta morendo mettiamoci Armellino anche Arrigoni sta stanco mettiamoci Santoro per dare un po' più di fisicità Santoro è rimasto 100 kg però vabbè sta crescendo tantissimo io sono molto molto contento di lui questi 100 kg ragazzi sul campo non si vedono è sinceramente solo un mero dato così ma sul campo non si vedono proprio questi 100 kg gioca che è una bellezza ripeto è stato eletto più volte MVP fra gli under 19 quindi veramente non c'è nulla da dire su di lui io spero che continui a crescere alla fine ripeto tanto potrà diventare un buon giocatore per noi per la serie A tanto può essere una buona plus valenza alla fine l'abbiamo pagato un milione e nove ma con mega rate quindi già se ci andiamo a fare 3-4 milioni e tanta tanta roba Cortinovis Falco che palle ragazzi chiudiamola sta partita che il Crotone è infame poi facciamo come il Palermo che ci riprendono all'ultimo venuto Falco venuti venuti Armellino vuole la botta no la passa Alessandro dai Alessandra fa il primo gol facci gioire 1-0 ancora Lecce mancano 4 minuti un po' di sofferenza abbiamo stradominato sta partita anche considerando il fatto che il giocatore avversario è stato subito espulso eeeh niente credo che sia finita spero gestiamo sto pallone per favore non ci facciamo fare contropiede c'è Santoro c'è Lepore venuti venuti sulla destra perché? Scavone io intanto non ho fatto cambi non ho fatto un altro cambio vabbè mi sono concentrato a parlare con voi però per fortuna è andata bene abbiamo vinto ho fatto solamente due cambi vabbè sono abbastanza contento sono un po' preoccupato per Mancosu però bella così sono andato un po' più avanti rispetto alla partita con il Crotone siamo al 3 di gennaio questo perché volevo concludere ufficialmente determinate cessioni e soprattutto volevo iniziare a trattare per un giocatore che vorrei fortemente per il nostro Lecce per quanto riguarda Torromino ovviamente ufficiale la sua cessione 600.000 euro al Palermo questo però ha creato un po' di malumori alla nostra squadra soprattutto per quanto riguarda Arrigoni perché pensa che siamo troppo pochi lì davanti secondo me non calcola che Filippo Falco potrebbe essere un attaccante quindi siamo due per ruolo io sinceramente non mi son sentito di promettergli di comprare un altro attaccante perché sinceramente ragazzi non avrebbe alcun tipo di senso avrei potuto prendere sì uno svincolato per pochi mesi ma siamo veramente a posto così perché abbiamo molti giocatori che non stanno praticamente mai giocando molti giocatori che possono fare più ruoli e quindi riempirci di giocatori che praticamente non giocherebbero mai non ha alcun tipo di senso i più attenti avranno già notato che ci sono state due operazioni di mercato in primis la cessione e non ci crederete mai di Marco Bleve all'Arsenal per 450.000 euro prima che gridiate allo scandalo io vi ricordo già che l'anno scorso abbiamo venduto Ruffier portiere di championship al Monaco squadra di Ligan capita molto spesso che qui su Football Manager squadre veramente forti prendono portieri un po' più scarsi ad esempio per utilizzarli come terza alternativa ma per togliervi qualsiasi tipo di dubbio vi voglio far vedere che l'allenatore questo non è stato modificato nulla e quindi niente mi è arrivata questa offerta di 150.000 euro io ho trattato ho sparato subito i 500.000 ho detto vabbè l'Arsenal approfittiamone alla fine abbiamo trattato per 450.000 euro vi voglio far vedere tutto perché se no qui iniziano partono i complottisti oddio Mike ha venduto Bleve all'Arsenal avrei potuto venderlo a chiunque mi è arrivata l'offerta di questa squadra e l'ho ceduto ci abbiamo fatto alla fine solamente 100.000 euro perché il 30% ci hanno dato a noi poi il resto se l'è tenuto tutta la società però sinceramente ragazzi l'ho voluto cedere sia perché così aiutiamo il nostro presidente a portare avanti questo Lecce con ben 350.000 cucuzze e soprattutto non avremmo mai potuto vendere una cifra così alta e non ci avremmo mai fatto più di 100.000 euro quindi l'ho voluto mandare via sono un po' cretinate di Football Manager ricordo anche l'anno scorso ripeto è già successo con Ruffie è capitato a tanti altri ragazzi che ci giocano ogni tanto le big prendono questi portieri alla fine se ne trovano di meglio anche fra gli svincolati però il gioco è fatto così noi approfittiamone e vendiamo sti bidoni per quanto so che poteva crescere però ragazzi sinceramente ho preferito venderlo adesso che c'era l'occasione di farci un bel po' di soldini che puoi aspettare e rischiare che non ci arrivi poi la big di turno che ci spara una cifra astronomica per un giocatore che non è niente di che la seconda e ultima operazione di mercato più che altro ultima ufficiale è l'acquisto di palombi allora molti di voi mi hanno consigliato di aspettare la certezza della serie A alcuni mi hanno detto che semmai palombi poteva essere svenduto dalla Lazio perché tipo non avrebbe mai giocato titolare da loro però sinceramente ragazzi io non ho voluto rischiare e ho offerto subito cash questi 500 mila euro per palombi e l'abbiamo preso i motivi sono tanti in primis aveva prima un valore di circa 3 milioni e quindi non volevo rischiare che poi la Lazio effettivamente ci andasse a chiedere 4-5 milioni perché comunque è un giovane con un discreto potenziale in più adesso siamo in serie B e quindi abbiamo potuto offrire un ingaggio di 244 mila euro che non sono pochi ma non sono nemmeno tanti quanto quelli che ci avrebbe chiesto poi una volta arrivati in serie A quindi è un'operazione sensata ragazzi perché l'ingaggio per una serie A abbastanza basso per un giovane che può far veramente bene che sta spaccando il mondo in questa serie B e quindi niente per me è un'operazione sensata non ho voluto neanche aspettare perché sta facendo benissimo anche se lo volessimo già rivendere ci andiamo a guadagnare 1 milione e 4 1 milione e 5 quindi sinceramente non volevo perderlo ecco poi può crescere ancora in serie A secondo me il primo anno potrebbe anche farlo quasi da titolare io sono molto molto contento di questo acquisto e devo dire la verità in questo caso me l'avete consigliato voi fin da subito mi avete detto fai giocare palombi io vi ho ascoltato e vi ringrazio perché siamo stati anche abbastanza fortunati a trovare questo campioncino a così poco ovviamente dobbiamo sostituire Bleve avevo anche visto alcuni portieri svincolati e fra i vari cestorari che addirittura ci aveva chiesto 25 mila euro una miseria mi faceva quasi pena infatti lo volevo prendere però poi ho pensato è un portiere di riserva che ci serve un quarantenne prendiamo un giovane di prospettiva che ha un potenziale altissimo ragazzi questo è un altro piccolo campioncino c'erano diversi portieri giovani che potevano fare bene possono fare bene però questo secondo me è uno dei migliori acquistabili per noi in questo caso è prestito con diritto di riscatto prestito sempre biennale e sto parlando di Matteo Soncin praticamente oggi ho iniziato la trattativa non vado avanti perché voglio vedere le cose con calma anche per quanto riguarda le cessioni però insomma è una trattativa abbastanza fattibile anche perché oltre noi diciamo che nessuna squadra ha fatto un'offerta quindi dovrebbe venire senza troppi problemi come la trattativa prestito bennale giocherà come riserva praticamente ho impostato riserva paghiamo la metà dell'ingaggio e diritto di riscatto è di 2 milioni e 2 diciamo che sono andate abbastanza a colpo sicuro perché nell'under 18 under 20 del Milan ci sono diversi giocatori portieri molto molto interessanti c'è Zanellato c'è Soncin e c'è Plizzari Soncin secondo me può crescere meglio rispetto a Zanellato Plizzari cresce molto di più rispetto a Matteo è anche molto più forte però Plizzari lo potremmo prendere sì in prestito biennale ma con un diritto di riscatto di 40 milioni allora so che effettivamente poi l'anno prossimo avremmo potuto provare a rinnovare il prestito ma nel caso in cui poi il Milan non ce lo voleva ridare che facevamo tenevamo praticamente un giocatore per due anni lo facevamo anche crescere e poi lo dovevamo riportare al Milan invece Matteo per quanto sia attualmente un po' più scarso per quanto sia potenzialmente un pelo meno bravo di Plizzari però ragazzi lo possiamo riscattare a 2 milioni e 2 diventa ugualmente fortissimo e io sono abbastanza contento ovviamente è più scarso di Marco Bleve me ne rendo conto però in potenziale è molto molto più forte e visto che questa carriera la stiamo diciamo strutturando sui giovani italiani che hanno un ottimo potenziale io sono andato a colpo sicuro su di lui ora non è ancora ufficiale la cosa però dovrebbe esserlo ripeto non ci dovrebbe essere problemi anche perché le altre squadre che lo vogliono sono squadre di Rimini e Potenza quindi credo che Matteo preferisca venire a Lecce per quanto non sarà ovviamente il titolare per quanto non giocherà praticamente mai però lo faremo tutorare da Vigorito solo che la determinazione non è altissima però io ripeto secondo me Matteo cresce veramente tanto fra i giovani sicuramente fra i giovani portieri sicuramente potrà diventare molto molto forte poi ragazzi è un prestito biennale mal che vada o meglio un prestito di sei mesi un anno un anno e mezzo mal che vada se non cresce proprio lo rimandiamo indietro è una prova però ripeto secondo me Matteo può diventare un grandissimo portiere soprattutto sotto l'ala di Vigorito insomma potrà dargli una grande grande mano è anche diciamo migliore per quanto riguarda la determinazione quindi sicuramente potrà essere un ottimo tutor e niente ragazzi praticamente questo è l'unico colpo di mercato che per il momento mi sento di fare e ripeto secondo me il portiere giovane migliore che potevamo prendere è un prestito so che c'era ad esempio anche Storari però preferisco appunto gestire per il momento così puntare sui giovani anche perché alla fine è una riserva non è che andiamo a mettere Matteo titolare non sono un folle sperando che ovviamente Vigorito non si faccia male e in questo caso facciamo gli scongiuri e vi stavo dicendo che non voglio fare una vera e propria rivoluzione intanto Mancoso si è fatto male per 4 settimane però per fortuna per molte settimane non giochiamo quindi potrà riprendersi senza troppi problemi poi abbiamo anche Alessandro possiamo mettere anche Falco al suo posto quindi non ho problemi non voglio rivoluzionare la squadra perché sta facendo bene ma soprattutto per il problema che la società ci dà solamente il 30% quindi ora come ora non ha alcun tipo di senza andare a vendere giocatori potremmo vendere anche pettinari però ragazzi pettinari già lo potremmo vendere assieme a 600 mila euro poi prendiamo il 30% alla fine ci andiamo a fare manco 200 mila euro 150 mila euro e non ha alcun tipo di senza quindi teniamolo semmai facciamo giocare un po' di più e poi a luglio lo vendiamo a meno che non ci arrivi una squadra con un milione di euro allora a quel punto lo vende sti cazzi prendo un attaccante in prestito comunque un parametro zero per 6 mesi e poi chi si è visto si è visto e vediamo a giugno cosa fare però per il momento offerte importanti non ci sono arrivate anche per quanto riguarda Armellino e Calderoni se ci dovessero arrivare offerte di 2 milioni di quei 2 milioni vedremo solamente il 30% quindi ora come ora non ha alcun tipo di senso fare queste operazioni ho anche firmato il rinnovo contrattuale proprio per questo sono aumentati sia budget trasferimenti che montengaggi ho provato a chiedere ovviamente di aumentare la percentuale ma il presidente mi ha detto senti siamo in una situazione di schifo non possiamo darti di più accontentati e io ovviamente non posso dire nulla anche perché sono un nuovo arrivato quindi vediamo un po' probabilmente se mai arrivassimo in serie A con più soldi con i diritti tv e con anche maggiori biglietti venduti sicuramente la percentuale aumenterà con delle finanze sicuramente migliori e quindi niente ragazzi io credo che possiamo salutarci qui il mercato non è ancora ufficialmente chiuso perché Matteo non è ancora arrivato però se arriva lui molto probabilmente ci fermiamo qui sperando di fare un girone di ritorno altrettanto bello come il girone di andata detto questo come sempre mettete like commentate condividete iscrivetevi al canale alla pagina facebook e al gruppo di Giangio Man tutti i link li trovate qui in descrizione come sempre grazie per tutto quello che fate e un saluto a Mec44 ovviamente anche da Football Manager Italia ciao ragazzi grazie a tutti